A pochi giorni dall'uscita di Nicola Pisu dalla casa del grande fratello VIP, c'è stato il confronto definitivo con Mirjana Trevisan e i due hanno concluso che non potrà esserci nulla fuori. A pochi giorni dall'uscita dalla casa del grande fratello VIP, è il momento della resa dei conti tra Nicola Pisu e Mirjana Trevisan. L'ex concorrente, eliminato nella puntata dello scorso venerdì, ha voluto chiarire la sua posizione con Mirjana Trevisan, dopo l'affera amoroso non andato a buon fine nato tra loro all'interno della casa, arrivato a un punto di rottura pochi giorni prima dell'uscita di Pisu dal GF VIP. Dalla mia uscita non mi pare che ti sia mancato così tanto. Ho visto un po' di leggerezza, ha contestato Pisu a Mirjana, che ha contestato la sua affermazione. Quale leggerezza? È sempre stato così, ho provato a proteggerti. Lui respinge questa risposta, sapendo come stavo nei tuoi confronti, ti sei distaccata del tutto, mi hai fatto credere che un minimo, anche fuori, potesse esserci una conoscenza, invece nulla, per un litigio. Mirjana non nega che dal momento dell'uscita dal programma, in lei sia avvenuto qualcosa di liberatorio, quando sei andato via mi sono sentita un po' più libera, non mi sentivo i tuoi occhi addosso. Sono convinto che da parte mia non possa esserci amicizia né altro. Non mi sembra giusto. Ci ho creduto e sono stato sempre coerente. Parole alle quali Mirjana ha risposto con delusione e nel più sincero dei modi, sono stata troppo gentile, se provavo ad allontanarti, lo facevo con gentilezza. Oltre l'attrazione non c'era altro. Poi io non sono una veggente, sono una persona umile e gentile. Non pensavo nemmeno che una persona di 33 anni potesse piacermi. A essere leali non funziona, dire sempre la verità non ha effetto. A essere leali non funziona, dire sempre la verità non ha effetto. Oltre l'attrazione non ha effetto. Che fai bene, non ha effetto. Handlazione non ha effetto. Ah, ma pensa innocento. Grazie a tutti